Paura nella notte a Santa Maria di Sala in via Noalese. Un edificio inagibile, un tempo adibito a Falegnameria, è andato in fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto poco dopo la mezzanotte, con squadre partite da Mira, Mirano, Mestre e Padova. Nessuna persona è rimasta ferita nell'incendio, ma è stato comunque necessario l'intervento di due autopompe, due autobotti, autoscala, carro ambientale e ben 18 operatori per avere ragione delle fiamme. che non hanno comunque intaccato le abitazioni attigue. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco. Sul posto sono giunti anche il personale dell'Enel e i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate in mattinata, dopo circa quattro ore.